Primo giorno di vero sole, per fortuna, si comincia a pensare alle vacanze. Chissà quanti riusciranno a farle lunghe e chissà quanti saranno costretti, anche per un fattore economico, a farle corte. Si pensa già alle vacanze? Guarda, andrà via. Sì, guarda. Sì, andrà da qualche parte? Sì, però ancora non lo so. Mare? Mare, sì, sì. Breve oppure sarà possibile anche fare... Lunghissima. Lunghissima, la vacanza. Benissimo, si l'hai avuta fortunata a poterlo fare. Allora, anche lei, anche lei, anche lei. Vacanze si sta già pensando? Sì, appena arriveranno un po' di soldi. Quindi è solo un problema economico in questo momento? In questo momento sì. Purtroppo saranno brevi o lunghi? Si spera lunghe, ovviamente. Perfetto, tante grazie. Pensiamo già alle vacanze? No, no, nemmeno. Quest'anno è difficile per un problema economico, immagino? Eh sì, sì. Già in preparativi? Sì, già fatto tutto. Vacanze lunghe o corte? Medie, diciamo così. Mare? Tutto mare, tutto mare. Luglio mare, agosto mare. Buongiorno, scusi, due parole. State già pensando alle vacanze? Si, penso già alle vacanze. Sì, già si pensa, sì. Sono già state preparate? Preparate, sì. Lunghe o corte? Medie. Due settimane. Circa 15 giorni, ecco, insomma. Sì, sì. Però... Mare o monta? Mare, mare, sempre mare. Un periodo lungo o corto indipendentemente dalla parte economica oppure molto importante la parte economica? È sempre importante anche la parte economica, però le vacanze sono vacanze, ecco. Si hanno fatto altre cose, però le vacanze si fanno. Perfetto, tante grazie. Buone vacanze. Si pensa già alle vacanze anche per l'attività? Ci si pensa, ma quest'anno è dura. È dura, molto dura. Come tutti, dura tra il tempo, tra tutto, non si va. Ma si faranno oppure ancora incertano? Si fanno, si fanno. Lunghe o corte? Corte, in mar. Lunghe. Lunghe, il più possibile. Ce ne ha bisogno, eh? Sì, ce ne ha bisogno. Non c'è tutto, ma le vacanze no? Le vacanze no. Mare, immagino? Mare, sì, sì, sì. Perfetto, grazie. Buone vacanze, allora. È certo. Le vacanze sono vacanze. Vanno fatte per forza. Forza. Il clima non è che ci aiuti molto per il momento. E poi, insomma, anche la parte economica. Eh vabbè, la parte economica, penso, è un ritaglio di risparmio per le vacanze. Fattenuto per forza. Corte o lunghe? Spererei lunghe, però mi sa corte. Allora, buone vacanze, signora. Si pensa già alle vacanze? Si pensa sì alle vacanze, sì. Si faranno corte o lunghe? Corte, corte, che stanno. 15 giorni bastano? No, anche meno, anche meno. Anche meno. Ma per un problema che adesso, insomma, la parte economica è difficile? Certo, per quello, per la crisi c'è tutto. Mare, immagino. Certo. Sempre la meta preferita. Italia o estero? Italia, estero, Italia. Sì, sì. Si faranno corte o lunghe? Lunghe. Lunghe. Al mare, immagino, col nipotino? Con le nipotine fino a settembre. Ah, allora, quindi, si reputa però una fortunata che può gestire un periodo così lungo. Sì. Insomma, però il momento non è di quelli più fatti. Infatti. Quindi, insomma, poter fare tre mesi di ferie non è da poco. Sì, siamo in pensione. E per nipotesi si fa tutto? Sì. Perfetto. Lei, signora, farà le ferie? Sì. Quanto lunghe o corte? Uguale, uguale. Allora, quindi, sarete insieme. Grazie tante e buone ferie, allora. Grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti.